Good morning, roleplayers! Benvenuti in questo nostro spazio, in questi nostri 5 minuti, dedicati a persone, storie, emozioni e sì, anche giochi di ruolo. Per cui, ferma tutto, i prossimi 5 minuti sono nostri. Sono tornato, eccomi qua, sono tornato giusto prima di un evento importantissimo della mia vita. Sì, voglio condividerlo con voi, un po' perché resti impresso in questi spazi che dedico un po' ai miei pensieri, alla mia vita da video da giocatore di ruolo. Non video giocatore, ma anche video. Comunque, domani mio fratello si sposa. Yeah! Grandissimo! Per cui in questi giorni sono un po' incasinato. Stanotte dovrò fare... Lui intanto non ascolta questo podcast e se lo ascolterà... Ciao, povere! Ciao, Davide! Se lo ascolta, vabbè, a me tanto sarà già passato. Io questa notte dovrò passarla ad appendere i volantini, a appendere gli striscioni, a preparare il video per le nozze, a preparare un sacco di scherzi, per cui sono un po' incasinato. Ma giocheremo anche a non cedere il sonno, perché questa notte io dovrò giocare e anche appendere. Quindi non cedere il sonno ci sta benissimo. Anzi, avrei potuto fare un personaggio che ha il fratello che si sposa e lui deve appendere i volantini e quindi non può dormire assolutamente. A parte gli scherzi, stasera giochiamo a non cedere il sonno. Facilita, fa il GM Simone. Grazie, Simone! Lui che ama questo gioco, che ne è esperto, ho visto che salta The Sprawl, ce lo fa provare, ce lo fa provare tantissimo, ce lo fa provare bene, ce lo fa provare a fondo. Per cui ci divertiremo e sarà, speriamo, una grandissima esperienza. Comunque, a parte quello, a parte la pubblicità, che lo spam non è più reato, la Corte di Cassazione sembra abbia deciso che non si può più ricorrere al tribunale per difendersi dallo spam, altrimenti si rischiano anche penali e pagare delle spese e accessori. Ma quello che più importa adesso e che volevo proporvi è una cosa che ho sentito in un altro podcast. In un altro podcast chiedevano quali sono i quattro videogiochi che ti caratterizzano come videogiocatore. E a parte che sarei anche videogiocatore, ci ho pensato. Ma a voi voglio porre un'altra domanda, cioè quali sono i quattro giochi di ruolo che vi caratterizzano come giocatori? Io ci ho pensato. Non è stato facile, le classifiche non sono mai facili, però sono divertenti da fare. Per cui, senza voler metterle uno sopra o uno sotto, inizio. Sicuramente richiamo di Cthulhu. Perché? Perché quando ho iniziato mi ero informato un po' sulle riviste e non avevo amici, quindi era l'unico mezzo in cui ci si poteva informare. Chaos, principalmente, ma anche Rune, ma anche Excalibur. All'epoca erano riviste di settore, ma riviste anche di editore, ma cerchiamole di essere un po' super partes. Comunque, quando sono andato a prendere il primo gioco di ruolo mi hanno proposto D&D, ho chiesto qualcosa di meno basato sui combattimenti, e mi hanno mandato in una libreria poco distante a Verona, la città vicino a dove abito, perché avrei trovato il richiamo di Cthulhu. Due cose mi fanno sorridere ora. È il primo che nel negozio dei giochi di ruolo mi abbiano mandato, che poi si è ripetuto perché quel gioco, a me è successo molte volte nella vita di andarci cercando il gioco di ruolo che volevo e di non trovarlo. Questo è il light motive che fa sorridere. L'altra cosa che fa sorridere è che ho trovato il gioco di ruolo, il primo gioco di ruolo, l'ho comprato in una libreria e non in un negozio di giochi. Questa cosa fa sorridere. Ci ho giocato, ci ho giocato non quanto vorrei con il richiamo di Cthulhu, ma abbastanza e mi è rimasto nel cuore. Un po' perché amavo le Overcraft e un po' perché c'è questo investigativo, questo pipe, ci sono tante cose che piacciono nel richiamo di Cthulhu. Ora non so se le giocherei ancora, però l'atmosfera e le avventure mi piacciono ancora, infatti sto cercando un sistema con cui giocarle. Forse Fate of Cthulhu risolverà il mio problema, visto che in questo momento sono, in questo periodo della mia vita sono abbastanza in passione. Poi, secondo, on stage. Quando non trovavo un gruppo di gioco di ruolo, di giocatori, sicuramente on stage è sopperito alla carenza e tra l'altro mi ha fatto scoprire un modo di giocare che era totalmente diverso, a stare seduto al tavolo, a nerdare, lanciando dadi e immaginando stanze profonde, se così le vogliamo chiamare. Immaginare in garage un teatro, giocare live, giocare con la fidanzata dell'epoca, con gli amici, con le fidanzate, pieno di ragazze. Devo dire che la mia vita di gioco di ruolo questa carezza di ragazze non l'ho mai avuta, sarà stato merito di on stage, gran gioco, che ancora oggi ha qualcosa da dire. Poi, al terzo posto, sicuramente il cuore di mostro. Ha caratterizzato l'ultimo decennio, forse, quasi, della mia vita e ci ho giocato le migliori campagne della mia vita. Sicuramente ho conosciuto delle persone importanti per me ed è un gioco straordinario perché mi permette di mettere in gioco quelle emozioni e di avere feedback attraverso il gioco su delle emozioni, le storie che racconto, i personaggi che ne vivono, che sono eccezionali. A volte ne approfitto anche per metterci dentro a sentimenti che avevo durante l'adolescenza e che mi porto ancora dentro. Quell'adolescente sì, ce la portiamo dentro tutti quanti, non muore mai. Poi, all'ultimo posto, qui è stato un po' più difficile perché ce ne sono tanti, perché non ce n'è uno che particolarmente ha, e ho scelto Witch. Witch are the Indies fan, perché avrei potuto scegliere la società di sognatore che ha caratterizzato la prima pubblicazione a cui ho collaborato. Avrei potuto scegliere Dilemma, che è un gioco che non è stato pubblicato ma ci è mancato un soffio, che mi ha caratterizzato come designer più che come giocatore. Ho scelto Witch perché fa parte di quella categoria di giochi, avrei potuto scegliere anche un live, avevo già messo un stage. Ho scelto Witch perché fa parte di quella categoria di giochi in cui un po' ce la si racconta, però ha anche delle meccaniche, per cui è quel tipo di gioco che tutti cercano, Witch, Monseguro eccetera eccetera, cercano perché elimina gran parte dei calcoli, elimina gran parte di quella nerdagine che si porta dentro il gioco di ruolo per lasciare spazio libero all'interpretazione. Ma è anche intrigante perché ha questa storia di questa strega di cui tu decidi il destino dopo averla accompagnata lungo il suo percorso. È quel mix giusto per me tra meccaniche e libertà di interpretazione, libertà di ruolare come direbbero alcuni. Affascinante la storia di questa strega, l'ultimo viaggio un po' nella magia, nel sovranaturale e un po' no, un po' nel reale, nelle persone che hanno questi loro problemi e che verranno fuori durante questo viaggio. È ora di andare, è ora di andare e vado a distribuire volantini, no, ma quello lo dovrò fare più tardi, vorrei sapere i vostri quattro giochi di ruolo che vi caratterizzano come giocatore. Per cui fatemi sapere e noi ci si becca domani.